eccoci ho pensato di girare un video creazioni visto che insomma in questo periodo ne sto realizzando tante ovviamente lo scopo è quello di distrarci e di insomma di intrattenerci in questi in questi giorni difficili innanzitutto parto dal descrivervi questo pendente questo ciondolo che praticamente è un viene è stato realizzato dal con il tutorial che si chiama adalia petal pendante appunto è realizzato con i petali 13 per 14 mentre poi ne esistono di più piccoli 7 per 8 che vedremo dopo e uno al centro c'è un rivoli da 18 il tutorial è di potomac beets e dopo vi metterò il link sotto come di questo come di tutte le altre creazioni per le quali sarà possibile il segreto diciamo di questa struttura è che dietro c'è un anello un anello da 40 mm quindi da 4 cm al quale ci si aggancia in questa in questo modo ma è ben illustrato nel tutorial cosa succede che io poi vabbè ci ho messo questo raccetto che è una vecchia rete tubolare che usavo tanto tempo fa quando creavo altri tipi di di bijou niente questo è il mio cruccio diciamo dopo aver fatto questo ciondolo era quello di riuscire a realizzare anche gli orecchini gli orecchini infatti diciamo con tutto un po più piccolo e quindi petali che sono 7 per 8 sempre rose petals che si trovano su vari siti non tutti ce li hanno ma molti li possiamo trovare di diversi colori e dietro ho adattato un anello da 30 mm con questa struttura che praticamente simile solo ridotta nelle dimensioni quindi dove lì magari si utilizzano le 80 io ho usato le 11 e dove se si utilizzano le 11 io ho usato le 15 più o meno poi ci sono alcune piccole modifiche i rivoli sono da 14 se non ricordo male ai oggi ha dimenticato vabbè comunque avevo spiegato questo come ho fatto insomma a fare questa struttura a qualcuno che me l'ha chiesto quindi magari vado a controllare e ve lo posso scrivere sotto e in pratica niente ci tenevo perché vabbè io amo i fiori come penso si sia capito e quindi avevo proprio il desiderio di realizzare orecchini anche perché appunto amo anche gli orecchini e questi sono tutti nel colore capri gold i petali sia questi del ciondolo che quelli del appunto degli orecchini e come vedete la finitura poi dei petali può cambiare infatti in alcuni punti e diciamo come dire qui in trasparenza vedete sotto invece qui c'è la parte proprio placata diciamo di oro rosa e quindi ho deciso poi di sistemarli così quindi questi che ho trovato in questa in questo modo con la parte concava diciamo in questo modo li ho messi sotto e questi altri invece sopra però potremmo per creare una cosa più vivace anche mescolarli oltre al fatto che si sono petali in tonalità matte o comunque completa diciamo dove questo problema poi non sussiste non ricordo purtroppo la misura dei rivoli mi sfugge ma deve essere veramente da qua devono essere assolutamente da 14 io poi ho fatto varie prove ma alla fine sono venuti fuori loro niente per continuare su questo colore insomma aramato e oro rosa ne ho fatti diversi per quelli metto tutti insieme un altro paio sono questi che sono i miei orecchini galland di cui ho fatto il tutorial da pochissimo e sono con le candy oval le tre misure delle candy oval che vi consiglio vivamente appena diciamo sarà possibile di procurarvi perché sono veramente delle perline molto simpatiche e danno la possibilità di fare tante tante cose carine secondo me c'è anche una mia collega gabriella casano che ha fatto anche un tutorial con le candy oval e sicuramente tante altre poi lo faranno questi sono i miei orecchini galland poi per continuare diciamo su questa scia abbiamo questi che sono gli orecchini kaiser meno così è scritto e sono di si è l accessori quindi trovate il tutorial sempre su youtube in pratica vedete sul retro hanno pure sempre le super duo io ho fatto solo questa modifica ecco che il caso di far vedere perché non facevano solo il cappietto nel tutorial però io poi l'ho stabilizzato collegandomi alla struttura dietro con due rocai facendo una specie di erringbone molto corto perché altrimenti magari il cappietto rischia di ballare un po troppo e sono con le pigi come vedete queste sono perle da sei i rivoli qui è da 12 me lo ricordo bene e sono direi veramente simpatici avevo queste pd meno male così li ho utilizzate sempre per rimanere in tema di colore diciamo più o meno no questi orecchini che sono in roma di fantasy bijou maria teresa armenia che ve li consiglio perché sono veramente belli io poi mentre li facevo siccome ho sbagliato e avevo fatto un passaggio che è questo qui non si vede bene perché questo colore non consente questo passaggio l'avevo poi ripetuto per tutto il giro erano venuti fuori vero siccome mi piacevano poi li ho rifatti e proseguendo questa cosa e ho creato questi quindi praticamente questi suoni roma ma fatti in forma tonda cioè ripetendo il passaggio per tutto il giro e poi chiudendo qui con una 11 una 8 e una 11 gli spazi diciamo che rimangono poi tre cipollotti secondo me questi vanno assolutamente rifatti in altri colori complessi diciamo colori pieni che forse rendono anche di più poi è sempre già che ci siamo io credo di non avervi fatto vedere già questi orecchini che sono i vecchini optical in questa variante di colore li avevo fatti anche il tutorial e qui sul canale vabbè gli orecchini optical diciamo sono questi con le white duo e le storm duo come vedete poi ancora praticamente abbiamo questi questi sono degli orecchini che sono stati ideati da giampiera balduzzi le gioie della giampi leon blog sulla rete e vi metto il link e si chiamano orecchini coffee sono fatti semplicemente quelle samos le paisley e le minus e sono velocissimi da fare io sinceramente ho fatto una modifica perché mi sembrava più idoneo mettere delle 15 0 qui accanto alle minus infatti ve lo consiglio sinceramente e il capietto quello fatto diverso quindi poi vedete voi un pochino ma ne vale la pena perché sono super veloci e bellissimi secondo me come schema è sempre la stessa cosa gli orecchini coffee li ho fatti anche in questo colore che mi col giallo l'azzurro un po di verde acqua che un mio abbinamento must diciamo una volta che ho visto che veniva bene ho fatto sempre questo poi sempre con le paisley abbiamo questi che sono i famosi orecchini da adesso in poi di francesca piombino che c'era sinceramente una mia amica che me li ha chiesti con questi colori qua quindi con le paisley quelle che hanno vari colori già mescolati all'interno e quindi poi ho fatto questo abbinamento qua poi che altro vi posso far vedere allora vediamo un attimo questi visto che siamo in temi di paisley in tema di paisley questi sono le luci d'america di francesca piombino sempre secondo me un modulo questo must diciamo sinceramente si può fare in tanti colori tante combinazioni di colori qui ci sono i bicono della preziosa che tra l'altro rendono tantissimo e queste paisley vabbè che parlano da sole come ali di farfalle sinceramente sono troppo belle io le desideravo da tempo finalmente le ho prese e le utilizzate questi sono i luci d'america sempre nel tutorial disponibile su youtube poi questi orecchini adesso sto andando un po abbraccio quelli che trovo davanti in questi sono quelli di bea berchi japanese bird praticamente bea berchi una creativa che appunto se voi andate sulla sua pagina facebook anche se non avete l'amicizia lei poi sotto queste sue meravigliose creazioni mette spesso appunto i link ai suoi schemi e li potete salvare insomma in qualche modo li mandati io li ho mandati a me stessa su messager così li tengo lì sempre pronti e questi ripeto vabbè sono quelle cinque hanno una cosa che è particolare che questa incassonatura che io vabbè ho coperto un pochino sinceramente facendo quest'altro decoro ma è un incassonatura che le usa anche per altre cose ora vi farò vedere che sinceramente simpatica e con i mezzi cristalli ed è veloce io però vi devo dire che questi avevano bisogno di un po di stabilità e ho fatto dietro questi collegamenti che come vedete partono dalla super duo e vanno nella in questa base di mezzi cristalli da 4 mentre questi che vedete su sono da da 3 e niente a parte questo piccolo rinforzo per il resto è uno schema secondo me carinissimo bellissimo e quindi ve lo consiglio e già che c'ero questi me li aveva fatti notare la mia amica silvia sia i japanese bird che questi cui bella mi aveva mandato lei già lo schema e queste appunto l'incastonatura che vi dicevo qua si vede meglio perché lì sì ho fatto la modifica anche sul davanti qui si vede meglio un incastonatura molto simpatica da fare questo è un ciondolo ciondolo cui bella come vi dicevo con le web duo e proprio così fa proprio un po a cupoletta ma in effetti sta bene poi pensando un ciondolo ci sta e questi sono sempre il must dei colori poi abbiamo questi proprio per rimanere in quel tema di colore e questa è la prima volta in cui ho fatto quell'abbinamento cioè questo verde acqua il giallino il dorato il crema e niente vi faccio vedere questo di questo purtroppo non c'è un tutorial perché questi orecchini io gli occhiali ho dato anche un nome si chiamano fireworks ma mi danno sempre filo da torcere quando li faccio per cui non riesco mai al primo colpo quindi non potrei mai fare un tutorial perché poi questione di millimetri sticosi da un momento all'altro potrebbero non venire io quando li faccio capita che li faccio già due volte per per orecchino cioè perché proprio non vengono bene tra l'altro ho cambiato anche più di una volta la disposizione delle perline la misura delle perline perché poi ripeto quando li ho presi dopo tanto tempo non mi venivano più bene però diciamo volendo potreste anche guardandoli provare a farle se proprio vi piacciono sono tutti con le mobiduo si possono usare le mobiduo di vari colori e però a fanno un bel effetto in effetti sono carucci poi allora per quanto riguarda adesso forse avevo dimenticato per quanto riguarda il rosa questi questi sono gli orecchini chip il modulino il modulino chip cioè con i cipollotti si forma un dischetto un cerchio e questi io li ho fatti diciamo di tanti colori e con tante combinazioni quindi vedete con una goccia diciamo semplice di cristallo sotto sempre con questo cipollotto che viene denominato mezzo rame su alcuni siti se lo volete cercare poi questi qui molto semplici con la goccia in ceramica che sono semplicemente rosa con la monachella in oro rosa però d'argento poi in questa versione che una delle mie preferite sempre con i cipollotti adesso voi li vedete beige ma diciamo che un rosa chiaro e con queste fantastiche nappine un attimo che mi allontano che sono le nappine di perline film and cook che sono sempre fantastiche meravigliose e direi che queste vecchini sono veramente allegri i perni li presi da nipi ma ormai nipi non è più aperto penso come negozio e non so chi altri ce li ha sono dei coricini rivestiti di pelle ma poi li avevano anche rivestiti di raso e io li avevo presi entrambi ed era il momento giusto poi di utilizzarli così poi questi li metto qua poi che altro mi voglio far vedere allora per quanto riguarda questo punto continuiamo sempre con gli orecchini cippi perché forse li avete già visti e quindi andrò velocissima perché questi forse sono quelli del tutorial o fatti poco dopo il tutorial quindi con questo azzurro è sempre quello il modulo poi questi bianchi che ho fatto però mancano le nappine voglio mettere sempre le nappine a fiore di perline film in co sotto ma al momento non sono arrivate anzi sono arrivate proprio mentre in questo momento mentre sto girando il video creazioni e li ho viste diciamo poco fa spero di riuscire a prenderla insomma condizioni generali permettendo poi abbiamo sempre i cippi in rosso con questi perni molti mi chiedono dove prendo i perni li prendo dal mio amico ali che se mi vede essere saluterei perché purtroppo in questo momento lo sappiamo non possiamo spostarci e quindi non ci possiamo vedere meno male che ne aveva una bella scorta questi sono sempre gli orecchini i cippi con questo colore verde acqua la goccia all'epoca la presa da pelini film in co molto bella di pietra naturale questa poi questo colore che non c'entra nulla ma è un colore che io dico c'è il copyright cromatico di lisa piccinini perché lei quest'estate aveva fatto vari modelli con questi colori bellissimi cioè il blu e giallo e questi con questi ci siamo buttati già troppo fin troppo nell'estate che è ancora un po lontana poi visto che ci siamo in tema di cipollotti gli orecchini chip e questi sono quindi diciamo viene formato un rombo con i cipollotti questi sono bianchi questi sinceramente non ricordo più di che colore ho fatto il tutorial ma forse questi sono quelli del tutorial se non ricordo male i ganci forse li ho cambiati per esigenze varie questi sono i chip li trovate sul mio canale visto che ci siamo per quanto riguarda il colore adesso vediamo questi gli orecchini ghirlanda che per fortuna tutti conoscete e quasi tutti conoscete insomma sono diciamo il mio tutorial meglio riuscito visti visti le viste le soddisfazioni che mi ha dato perché insomma più di 20.000 visualizzazioni e più di mille mi piace insomma che non è una cosa proprio da tutti i giorni e quindi ho deciso di farli anche in questo colore poi ancora che altro posso farvi vedere allora questione ha dimenticato di farvi vedere questi vi ricordate gli orecchini garland che vi ho fatto vedere prima galen scusate si pronuncia così pare che la r non si pronunci in inglese niente i galen quindi questi qua sono fatti con le candy quelle originali che mi sono state spedite dalla preziosa mentre le altre le avevo acquistate poi e questi sono diciamo l'intero per me perché sono di questo colore veramente bello di questa combinazione di colori molto bene che mi piace tanto quindi ho deciso di tenerli per me e avevo dimenticato questi poi già che ci siamo un tema di candy di nuovo vi faccio vedere questi allora questi orecchini di questi ho già girato il tutorial ma non l'ho pubblicato per anche per ragioni tecniche è molto semplice però ho deciso di chiamarli orecchini oval petals sempre quelle candy oval della mi solo di quelle della misura più piccola che ovviamente ne serviranno più di una bustina però perdonatemi per questo poi gli altri invece quelle candy oval di misura media più mezzi cristalli da sei rivoli bicono sempre della preziosa sono questi re of light di cui c'è già il tutorial sul mio canale qualcuno li ha fatti anzi un ragazzo un creativo che sta sui che sono conosciuto su instagram li ha rifatti anche con le samos facendo una modifica credo che abbia messo tre rocai 11 0 se non sbaglio comunque andate a vedere lui si chiama mister bijou se vi interessa lui le ha fatte con le samos niente poi c'è tanta roba tanta tanta roba perché lo sapete insomma il periodo è questo il tempo ce l'abbiamo e quale passatempo migliore per noi creare e questi aspettavano da tanto di essere creati sono gli spring rose che anche questi insomma riconoscete abbastanza e però avevo comprato queste bellissime mobiduo di che sono nella finitura sapete iris gold adesso non ricordo perché ha nomi diversi quindi i colori sono già mescolati e così come li trovavo mentre lavoravo insomma ho deciso di fare gli spring rose ecco io ho fatto questa versione però dimenticato di lasciare i rivoli di scoperto pensate un po come faccio invece nel video originale vabbè è andata così poi abbiamo ancora questi che sono degli orecchini ma in realtà non l'ho inventati io perché questa l'infila l'infilata iniziale e degli orecchini gamora di semplici creazioni by a rita e c'è il tutorial su youtube ma io poi l'ho cambiato perché lo diciamo ho cambiato l'orientamento insomma di queste pesli e ho creato questi orecchini che tra l'altro stranamente piacciono sia in questi colori che in altri colori insomma sono di media piccola dimensione quindi fosse per quello perché sono emettibili facilmente poi abbiamo gli orecchini allora questi orecchini io quando li ho postati ho sbagliato il nome per questo chiedo scusa a debora camisa che è gentilissima che ha creato questi orecchini che si chiamano aster e praticamente a chi li riproduceva ha poi donato un altro suo schema io ne ho scelto un altro bellissimo che si chiama etual e lei me l'ha già mandato e in realtà bisognava fare un'estrazione però abbiamo partecipato in quattro e quindi lei ha deciso generosamente di premiare tutte e niente questi sono bellissimi secondo me io ho usato un po con con questi perni ma direi che qua ci stanno bene e complimenti a debora i monili di debora andate a mettere mi piace la sua pagina che tanto brava e gentile poi cosa abbiamo a proposito di persone brave gentili vedo che sto cercando un collegamento tra una cosa e l'altra e lo riesco a pure a trovare pensate un po e questi sono di lisa piccinini di in arte lizart sono gli orecchini sanremo che avevo immaginato con queste kite laser la forma e quella con la foglia insomma col disegno di foglia e così li ho fatti e direi che sono veramente belli poi nei colori suoi preferiti ma anche che piacciono molti di noi a molte di noi gli orecchini sanremo che li potete poi sbizzarrirvi con i colori poi abbiamo ecco un'altra creativa di cui voglio parlarvi è il samatanga allora il samatanga non le si non le si sta dietro per quante cose in venta ogni giorno e sono cose molto originali tra cui appunto volevo mostrare questi orecchini però non entrano nell'inquadratura e sono gli orecchini dei chi drago se non ricordo male io ho fatto una piccola modifica qua in realtà non voluta ma che mi piace come vedete con pochissimi materiali magari di massuglietti delle cose che di appunto i white duo un po di bicone eccetera potete farli e ha una forma insolita per cui ve li consiglio vi consiglio anche tante altre cose che lei fa perché sono veramente belle e io infatti sto facendo un altro un altro suo modello però non l'ho ancora terminato poi magari alla prossima ve lo farò vedere di lisa avevo anche questi fatti però tanto tempo fa in occasione proprio dell'inizio di quest'anno che poi non è andato proprio benissimo e questi sono gli angel però questi lo schema è a pagamento sulla pagina e si sul negozio ex di lisa appunto lisa art ma anche questo veramente un modello originale è molto bello poi abbiamo ancora questi che sono un classico proprio i vienna di alessia principe io ho fatto qualche modifica perché credo che lei li faccia con le to e quindi non veniva benissimo quindi io ho aumentato il numero delle rocai qui su questo archetto qua è fatto ma penso solo quella modifica adesso non ricordo bene però questi sono veramente un must nel nostro mondo perché sono traforati sono leggeri sono veramente un ricamo come un ricamo e si possono fare di tanti colori danno sempre tante soddisfazioni e poi abbiamo queste ricchini che sono i miei i miei old fashioned che avevo fatto in un altro colore questi sono con il rosso e anche con le bellissime nappine sempre di perline fimo per rimanere nel tema del rosso abbiamo anche questi che sono i love story sempre inventati da me e trovate il tutorial sempre qua sul mio canale poi abbiamo anche questi diciamo che qualche salto l'ho fatto perché per esempio le cose di lisa avrei potuto mostrare insieme ma pazienza infatti questi sono sempre di lisarte sono gli i love ginko che diciamo sono molto eleganti poi con queste pesli dorate in questo modo insomma sono non sono carini e anche queste perle particolari che aveva sempre perline fino in cui non so se siano ancora disponibili che hanno già questa bella coppetta forma di di fogliette eccoli qua i love ginko e adesso praticamente sono rimaste queste cose che fanno parte pochissima roba cioè cosa abbiamo abbiamo questi che sono gli orecchini che ho realizzato per il contest di semplici bijou la semplici bijou cup che partita da da un po e questa era solo la prima fase per la serie black and white questi sono gli orecchini nettuno di melissa campagnolo sono belli grandi ma le orecchie stanno bene danno veramente una bella soddisfazione ve li consiglio sono veramente simpatici magari di fare da fare anche con tanti colori sicuramente sono belli e niente finisco con questi questi due praticamente sono due ciondoli di meri meri giuels che ha indetto un contest io ho avuto la fortuna di vincerlo grazie a questo ciondolo appunto che ciondolo fantasy e che come vedete diciamo replicato nei colori della nemone e quindi diciamo mi sono guardate primo premio tra l'altro il premio più bello che potessi ricevere cioè quello di un buon acquisto bello sostanzioso da perline fi men co che diciamolo è il mio sito preferito e quindi non potrei essere insomma più felice di così questo è il ciondolo anemone ma siccome con giu scusate il ciondolo fantasy che io ho fatto diventare insomma come un anemone e siccome gli anemoni ci sono cioè di quando l'ho visto ho pensato subito a questo e poi l'ho voluto realizzare l'ho fatto un pochino ho cambiato un pochino non ho fatto il ripasso con con le rocai sopra perché nel contest non si potevano fare modifiche invece poi per il mio conto mi sono fatta questo che è appunto le anemone come sapete ci sono anche in questo colore o anche più su lilla e avevo queste pezli ho pensato di farlo così e niente questo è il ciondolo fantasy vi metterò poi sotto tutti i link e insomma magari con questo ciondolo di insomma tipo tomac beats vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione spero di non avervi annoiato anzi spero di esservi stata utile e alla prossima occasione grazie a tutti